amici escursionisti buongiorno questa è l'escursione dei sempreverdi del 28 giugno da Peio il gruppo è salito al Viof e alla Punta Linche io non vi ho partecipato sebbene fosse una escursione importante perché si ricordava un nostro caro amico morto nel 2015 uno dei fondatore dei sempreverdi ma che per nove anni dal 2004 ha lasciato un segno nel nostro gruppo e anche nel nostro animo morì agli inizi di luglio del 2015 il Vioz fu la cima dell'escursione successiva ed allora è diventato il luogo in cui il gruppo lo ricorda Gianni Funazzi era e per tutti noi Gianni di Iseo Grazie a tutti! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.